Dopo la caduta di calcinacci dello scorso fine settimana in seguito alle copiose piogge che si sono abbattute nel comprensorio ionico etneo, da lunedì scorso sono state chiuse ben otto aule del primo piano del liceo scientifico Leonardo Di Giarre, costringendo gli alunni ai doppi turni. In realtà il problema non riguarda le aule in sé, ma la scala di sicurezza posta sul versante S dell'edificio che è stata dichiarata inagibile dai vigili del fuoco. Adesso sono iniziati i doppi turni e tra insegnanti e alunni non manca il malcontento. La dirigente scolastica Carmela Scire non ha voluto rilasciare dichiarazioni ma ha assicurato che si tratta di soluzioni temporanee. La priorità in questa fase era non interrompere le lezioni.